Allora, vabbè, sono qui con questo tappo, allora lo facciamo senza, vabbè, si può fare senza tolleranze geometriche, vabbè, non capisco perché questo qua tra parentesi, ok, bisogna toglierle, qui a questo punto, qua però se non usiamo le tolleranze geometriche dobbiamo mettere, io direi più o meno due, un decimo, facciamo, ok, questo qua è in 62 HS, è H7, sì, questo qui, il problema è che questo non ha senso, è più senso da qui a qui, non capisco il senso di questo, non ha nessun senso questo qui, l'importante è questa quota da qui a qui che deve essere giustamente maggiore di, perché devo essere sicuro di premere contro il cuscinetto, ok, poi qui, questo qui deve essere allungato leggermente, leggermente e vado ad allungarlo leggermente, questo io direi, direi che noi potremmo mettere smussi non quotati 10x45 così l'abbiamo risolta tutta questa qui, questo possiamo cancellare e fare cose e siamo a posto, eliminare i spigoli qui, qui, io farei un 3, 2, poi mettere uno e 6, ecco, al di là che questa deve essere inclinata, perché caspita, se no confonde, sembra, sembra un filetto e così via, perché proprio parallela a questa mi sembra un po' esagerata, io direi, questo non mi interessa, quella che mi interessa è questa, che così mi dà, sono sicuro di una certa planarità, questa non mi interessa perché non si appoggia e mi interessa questa, dunque 1 e 6 qui e qui, io direi, ok, gli altri non mi interessano, le lascio in 3 e 2, vabbè, ci vediamo alla prossima, rivederci, ho tutto, i fori ci sono, perché 2 per 5.5 che sono 4, sarà 4, mezzica, numero 4 fuori per 2,5, 2.5, vabbè, ci vediamo alla prossima, rivederci.